un saluto a sveglia ginevra e benvenuta sui music fan ciao ciao simone ciao a tutti gli amici di music fan innanzitutto è un piacere trovarti ritrovarti tutto bene tutto bene ma è un piacere trovarti ritrovarti per parlare di questo nuovo progetto nessun dramma che un disco secondo me ricco di suggestioni che può essere anche considerato un vero e proprio inno alla consapevolezza per te cosa rappresenta per me rappresenta sicuramente innanzitutto grazie per i complimenti e per me questo disco rappresenta sicuramente un nuovo modo di vedere le cose e un nuovo modo di approcciarmi a alla mia musica stessa quindi sono contenta che ti sia arrivato perché vuol dire che magari c'è speranza che arrivi anche a tutte le altre persone quindi sono molto contenta tra l'altro quello che quello che colpisce è proprio questo racconto sull'amore delle varie fasi dell'amore sembra proprio un concept da questo punto di vista è anche appunto le varie fasi della consapevolezza che poi ti ha portato anche a ricevere un importante riconoscimento da parte di spotify sì 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 poi tra l'altro sono contenta che sia arrivato in questo mese che uscirà anche il disco soprattutto perché ci tengo veramente tanto alla playlist equal e al modo in cui spotify sta cercando di darci una mano ad emergere siccome come sai è molto difficile per noi artisti donne a trovare il modo di far emergere la nostra voce e quindi sono veramente fiera di essere ambassador e di rappresentare tutte le artiste come fanno veramente tanta fatica e poi con questo disco mi auguro di dimostrarlo guarda io credo che in questo disco comunque tu sia riuscita davvero a come dire a dare un esempio anche da come dalla difficoltà possano nascere delle opportunità proprio per acquisire esperienza ma qual è la lezione che hai appreso dopo questo viaggio dentro te stessa sicuramente quello che hai detto tu e cioè imparare ma anche proprio dal punto di vista personale non solo dal punto di vista proprio del lavoro che ho che ho che ho fatto con questo disco mi sono proprio resa conto che a un certo punto saranno anche i miei 30 anni è importante avere la consapevolezza che che la vita è abbastanza imprevedibile che non sempre possiamo averne il controllo ed era importante per me far sì che anche tutte le altre persone no soprattutto quelle nei momenti che hanno dei momenti difficoltà e non sanno come gestire alcune dinamiche della vita cercare in qualche modo di creare di dare un messaggio che è quello di da un da un dramma un dramma può trasformarsi assolutamente in un dono e ci aiuta sicuramente a capire come andare avanti è importantissimo assolutamente ma tra l'altro è un disco che assume valore fin dalla copertina fin proprio dalla cover sì perché l'immagine è fondamentale io credo che questo disco abbia proprio un'identità unica che si che vada dalla dall'estetica al disco tutto allo stesso concept quindi così come nel disco dal punto di vista musicale volevo che arrivasse questo concetto anche dal punto di vista estetico volevo che arrivasse il c'è un problema ma lo risolviamo e e dobbiamo essere fieri di di come di come riusciamo ad affrontarlo quindi questa potenza volevo che arrivasse proprio questo motivo ma diciamo che anche dal punto di vista sonoro mi piace questo disco perché comunque hai affrontato anche in questo caso diverse tematiche andando proprio a come possiamo dire sperimentare anche rispetto al passato io trovo comunque una maggiore sperimentazione e anche dei suoni che a volte sono più crudi proprio anche per testimoniare determinate situazioni che poi si possono trovare appunto nei testi sì per me la musica e la parte testuale di una canzone devono andare di pari passo nel senso che sono molto della scuola di pensiero che una canzone anche senza testo deve deve arrivare con lo stesso messaggio quindi per me era importante che anche musicalmente ci fosse questo tipo di comunicazione però la mia fortuna è di avere avuto di avere sicuramente un produttore che mi segue dal primo disco e che quindi conosce esattamente il mio modo di esprimermi e poi con questo disco avuto anche la l'opportunità di 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 conoscere e confrontarmi con tanti artisti produttori nuovi che mi hanno sicuramente illuminato dal punto di vista di 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 libertà di espressione mi hanno aiutato a trovare ancor di più la mia vera essenza musicale artistica ma tra l'altro ghiaccio è sicuramente il brano più 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 importante in assoluto del disco che tratta un tema anche molto attuale sì sì io volevo spiegare semplicemente come in questo mondo è molto difficile prendersi cura dei sentimenti no perché siamo sempre poi io vivo a milano quindi ancor peggio sento questa necessità di dover correre anche quando non devo e e vedo proprio come in questa generazione sia veramente difficile eh viversi le cose no è sempre tutto molto superficiale non abbiamo paura di vivere qualunque cosa quindi ho cercato di trovare un tema specifico in questo caso che l'amore dal nell'era dei social perché è proprio rappresentativo di un della generazione in cui mi trovo e alla quale sto parlando però eh il il macro concetto secondo me era proprio quello di che abbiamo così tanta paura di vivere che poi diventa quasi più importante il desiderio che ottenere la cosa desiderata assolutamente ma tra l'altro in questo brano credo che sia importante anche l'apporto di di Andrea Bonomo e Simone Bertolotti comunque credo che eh loro anche con la loro esperienza siano riusciti forse a trasmetterti anche qualche qualche dettaglio qualche consiglio sì 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 ti ripeto tutti gli artisti che hanno lavorato con me a questo disco mi hanno veramente insegnato tanto poi io sono molto sempre molto propensa ad assorbire da qualunque persona con cui parlo eh per me è importante avere più feedback e più condivisione possibile perché la musica è di tutti ed è importante avere il punto di vista di tutti quindi aver avuto l'opportunità di lavorare come con addetti ai lavori come Bertolotti e Bonomo veramente mi ha mi ha insegnato ancor di più a capire come parlare a alle persone a più persone possibili assolutamente ma credo anche nella possibilità di di permettere comunque anche al pubblico di riconoscersi in in alcuni brani e credo che in assoluto forse il brano nel quale ci si può riconoscere maggiormente è Gelatai credo che quello eh sape veramente dare quel quel qualcosa in più sì Gelatai è forse tra le canzoni ehm alle quali sono più legata del disco ma perché ho avuto la fortuna di lavorare con Giorgio Pesenti in produzione che siamo prima anche con Riccardo siamo prima di tutto amici e poi artisti che lavorano insieme e quindi ho notato proprio eh che in canzoni come Gelatai sono riuscita a trovare veramente una parte eh che mi rappresenta che è l'eleganza con cui riesco a dire e parlare di alcune tematiche e loro sono stati molto bravi a leggere questa mia caratteristica e ad enfatizzarla in un pezzo come Gelatai che ha proprio una un'identità se anche no il proprio la produzione che è molto scorre naturalmente da molto spazio al testo ci sono un sacco di immagini di di metafore di sì un bel pezzo un bel pezzo uno forse dei forse il pezzo mio preferito in assoluto del disco però è sirene perché mi è piaciuto come riesci a trattare il tema anche dei nuovi incontri anche musicalmente questo pezzo mi ha mi ha colpito sì sirene ehm è forse la canzone più vicina a quel al genere che io ho sempre voluto fare e cioè mi riferisco molto alla alla scuola Elisa no quel pop anni 90 molto prepotente dal punto di vista vocale che però ha una produzione molto minimale e un testo semplificato ma che in realtà racchiude tantissime tantissime tematiche tutte insieme e mi piaceva molto l'associazione delle sirene ehm associate al ai ricordi no alle brutte esperienze ai flussi di pensiero che in qualche modo sono quella parte x con cui dobbiamo convivere no e che ci riportano ogni volta a dover riaffrontare delle situazioni che abbiamo fatto fatica a gestire in passato quindi sono contenta che sia una delle tue tracce preferite perché è anche una delle mie tracce preferite mi fa piacere senti la curiosità adesso è vederti dal vivo perché ci sono due due tappe due due date di presentazione come saranno strutturate allora eh ci saranno queste due date a Milano e Roma che che eh che stiamo preparando da un po' di tempo perché ci tengo a presentare il disco come merita quindi stiamo preparando uno show ci saranno ospiti eh suoneremo tutte le canzoni del disco nuovo più alcune canzoni vecchie e quindi sarà una grandissima festa dove festeggeremo anche solo il fatto che questo disco eh prende vita e e sarà poi c'è tutti potranno ascoltarlo quindi saranno due eventi speciali io non posso che ringraziarti ti auguro buona musica e ci vediamo grazie a te simone ciao 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 ciao